I Novaks tornano in corsia, scontro regione-governo. Vincenzo De Luca ribadisce le critiche al provvedimento del Ministero della Salute e avvise i dirigenti delle ASL. I medici senza vaccino non devono stare a contatto con i pazienti. Intanto sul fronte Covid, incidenza in calo. L'accusa dell'arcivescovo, cimitero ferita aperta. Nel giorno dedicato alla commemorazione dei defunti, Monsignor Battaglia chiede di dare una risposta alle famiglie dopo i croli al cimitero. Manfredi incontra il comitato e denuncia decenni di incuria, appoggio reale. Incubo l'isteria, sequestri dei NAS. Il rischio contaminazione del batterio. I carabinieri hanno eseguito numerose ispezioni tra Salerno, Avellino e Benevento. Al setaccio, negozi di alimenti, pastifici, caseifici e salumifici. Bimba giù dal terzo piano me l'ha ordinato Dio. Confessione shock dell'uomo accusato di aver lanciato la figlia di due anni dalla finestra dell'abitazione di Fisciano. I legali ne hanno chiesto il trasferimento in una struttura psichiatrica. Il quarantenne è accusato di tentato omicidio. Rischio voto inquinato a reparti speciali in Irpinia. Il prefetto di Avellino dispone più controlli a Prato la Serra con l'intento di garantire il regolare svolgimento della competizione elettorale. Dislogati nella Valle del Sabato i militari della compagnia di intervento operativo. Tavolini in area Unesco è polemica a Benevento. A poca distanza dal complesso di Santa Sofia le sedute di barre locali. Comitato centro storico posta la foto e si riaccende lo scontro sulla Movida. I residenti tornano a chiedere al comune di intensificare i controlli. Buonasera a questi titoli del nostro Tg stretta del presidente De Luca sul reintegro al lavoro dei medici Novax voluto dal governo Meloni. Inviata alle Asle una direttiva che chiede siano tenuti lontani dai pazienti al microfono di Otto Channel. I cittadini si dicono divisi sul ritorno dei camici bianchi in corsia. Sentiamo il servizio. Tornano in corsia i medici Novax e la decisione del governo Meloni un atto di totale irresponsabilità e intollerabile attacca il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca che ha firmato e inviato ai direttori generali delle Asle una direttiva che obbliga a tenere lontani dai pazienti i camici bianchi che non hanno fatto il vaccino. A Otto Channel i cittadini si dicono divisi sul reintegro al lavoro. Penso che sia giusto. Mi sento di condividere la posizione del presidente della regione. Ci dovremmo chiedere chi introduciamo nel mondo del lavoro e se veramente quegli ideali sono poi conformi a svolgere il lavoro che svolgono. Sono favorevole. Non sono tanto d'accordo. Per me possono ritornare al lavoro tranquillamente anche perché mancano medici. Sono rimasta un po' delusa perché pensavo che le regole valessero per tutti. Non si devono proprio permettere di farle ritornare perché quelli diventerebbero un pericolo per gli altri. Secondo me questi medici dovrebbero essere comunque penalizzati. Diciamo che sono propenso. Ritengo che i medici devono avere una fiducia nella scienza soprattutto in merito ai vaccini. Le regole valgono per tutti. Lo dice a me che sono un medico. Sono contrarissime. Io sono vaccinata ma non mi sento offesa. Nessuno deve obbligare nessuno a fare qualcosa. Intanto in Campania meno test e cala il tasso di incidenza del Covid-19. Sono 736 neopositivi, un decesso nelle ultime 48 ore e calano i ricoveri nelle terapie intensive. Una ferita aperta. Così l'arcivescovo di Napoli, Mimmo Battaglia, ha definito le bare sospese dopo i crolli al cimitero di Poggio Reale. Il sindaco Manfredi incontra i comitati e assicura l'impegno del comune per ultimare in tempi rapidi gli interventi. Sentiamo. L'immagine di quelle bare sospese nel vuoto è una ferita aperta. Monsignor Domenico Battaglia nell'Omelia per la celebrazione dei defunti al cimitero di Poggio Reale non ha usato giri di parole. L'arcivescovo di Napoli ha parlato dei crolli che hanno interessato due aree del Campo Santo. Bare sospese, come le tante vite sospese in città, tra chi vive in strada, chi ha perso il lavoro, chi è precario, chi è solo e non ce la fa. Occorre reagire contro ogni logica di indifferenza. Il monito della guida della Chiesa Partenopea, che ha invocato cura, responsabilità e impegno. L'arcivescovo, insieme al sindaco Gaetano Manfredi, ha deposto corone di fiori sui luoghi del crollo. Il comune ha incontrato i familiari delle salme ed ha assicurato che si sta facendo tutto il possibile. Abbiamo incontrato i comitati per manifestargli la vicinanza dell'amministrazione e il massimo impegno da parte nostra per poter procedere rapidamente alla dignitosa sepoltura delle salme che sono state interessate ai crolli e anche l'impegno a far partecipare i comitati a tutte le opere di recupero e di riconoscimento. A margine dell'iniziativa Appoggio Reale, il sindaco ha anche affrontato il tema del patto per Napoli e dell'interlocuzione con il nuovo governo. Credo che questa è ovviamente una norma nazionale che riguarda tanti comuni. Noi stiamo rispettando il nostro cronoprogramma. Abbiamo intenzione di collaborare al massimo con il governo, come credo anche il governo abbia intenzione di collaborare con noi. Quindi io non sono preoccupato, dobbiamo solo lavorare e andare avanti. E nel giorno della commemorazione dei defunti arriva il monito dei Vescovi della Campania. Sentiamo il servizio. Il monito dei Vescovi Campani nella giornata del 2 novembre. In questa ricorrenza è come se un po' tutto si fermasse, avesse bisogno di una pausa, di una riflessione. Il Vescovo di Avellino Arturo Aiello invita a cogliere il senso prezioso della vita. Questa giornata può farci bene proprio nel dialogo con i nostri defunti che non hanno avuto una vita meno difficile della nostra, anzi forse hanno affrontato anche altre difficoltà. E quindi raccogliamo da loro la grinta per vivere l'oggi pur con tutte le sue incognite. E poi non lasciamoci sfuggire la vita finché ce l'abbiamo. A Salerno commemorazione nel cimitero di Brignano con la messa ufficiata da Monsignor Bellandi. Tutti questi momenti servono un po' a ricentrare il cammino cercando di far emergere ciò che è essenziale, direbbe il Papa. E così, insomma, la giornata dei defunti ci aiuta a guardare un po' agli affetti veri e alle persone che hanno avuto significato per la nostra vita. A Benevento anche Monsignor Accrocca ha ricordato il valore della vita, bene primario da tutelare sempre. Io che credo in una vita oltre questa vita, so anche che quella vita me la devo guadagnare con le scelte che faccio giorno per giorno. Lanciare sempre un in alla vita e alla tutela della vita in ogni momento, in ogni istante della sua esistenza. Ha percorso 35 chilometri in bicicletta per portare un fiore sulla tomba della bisnonna deceduta l'altro ieri, protagonista della storia nel giorno della commemorazione dei defunti. Un ragazzino di 11 anni che si è messo in sella alla bici a mano calzati alle porte di Avellino ed è arrivato quasi quattro ore dopo al cimitero di Montemarano, piccolo centro dell'alterpinia dove risiede la famiglia. Sono state ore di ansia e preoccupazione con appelli e fotografie pubblicate sui social dai genitori per il ragazzino che sembrava svanito nel nulla. Nella tarda mattinata il sospiro di sollievo è stato riconosciuto proprio dai visitatori del cimitero di Montemarano che si sono messi immediatamente in contatto con i genitori. Norma anti-rave. Il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, censura il Viminale. Sicurezza serve ma il decreto è un'esagerazione, dice. Sentiamo. Il tema della sicurezza irrompe nel dibattito politico in seguito all'ipotesi di decreto presentata dal governo Meloni dopo il rave party di Modena sgomberato dal Viminale. Molto critico il giudizio del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, che intravede in questa norma un'esagerazione. Il presidente si dice d'accordo con l'esigenza di dare una stretta alla sicurezza urbana, anzi lo auspica, ma sul decreto nutre dei dubbi. Io sono per garantire sempre e comunque il rispetto delle leggi dello Stato e dunque sono per fare in modo che non si verifichino eventi come quello di Modena ma come quello di Viterbo. Non dobbiamo avere imbarazzi nel rivendicare l'esigenza della sicurezza, così come non dobbiamo avere imbarazzi a denunciare esagerazioni come quelle che ritroviamo nella ipotesi di decreto presentata dal governo. Sinceramente mi pare che andiamo oltre l'esigenza giusta di garantire la sicurezza. Io credo che si possano fare delle scelte efficaci sul piano della sicurezza, ma rispettose dei diritti dei cittadini. La replica arriva dal consigliere della Lega, Severino Nappi. De Luca, che parla di rispetto dei diritti, è una barzelletta. Dice da lui non prendiamo lezioni sulla sicurezza. Censura totale arriva invece dalla sinistra con Luigi De Magistris, leader di Unione Popolare, che lega il Revi di Modena agli scontri all'Università La Sapienza. Una volta si chiamavano il popolo della libertà, dice oggi sono i partiti del manganello. Duro il giudizio infine di Marco Campora, presidente della Camera Penale di Napoli, che definisce la norma populista e di dubbia legittimità costituzionale. Contaminazione dall'isteria. I NAS hanno eseguito numerose ispezioni tra le province di Salerno, Avellino e Benevento. A San Gregorio Magno, presso un caseificio, sono stati sottoposti a sequestro. 1.700 kg di formaggi privi delle indicazioni sulla tracciabilità. A Capaccio Pestum sono stati sequestrati circa 50 kg di pasta fresca. A Fisciano è stata disposta l'immediata chiusura di un laboratorio di produzione interno a un caseificio a causa delle gravi carenze igienico-sanitarie. A Benevento, a causa della mancanza di segnalazione di inizio di attività di produzione di alimenti freschi, è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività. I titolari invece dei laboratori di produzione alimenti e salumifici di Bracigliano, Torchiara, Salerno, Airola, Battipaia e Monteforte, Irpino, sono stati diffidati per la risoluzione di criticità igienico-sanitarie e organizzative considerate sanabili. Si sono concluse le indagini per il carabiniere che a marzo del 2020 reagì a un tentativo di rapina e uccise il 15enne Ugo Russo. Secondo il PM, il giovane è stato colpito alla testa a distanza ravvicinata ed ora il militare rischia il processo per omicidio volontario. La procura di Napoli ha chiuso le indagini su quanto accaduto la notte tra il 29 febbraio e il primo marzo del 2020. Una notte drammatica in cui un tentativo di rapina sfociò in tragedia con la morte del 15enne Ugo Russo. Secondo quanto ricostruito dalla procura, il carabiniere che sparò e ucciso il giovane rapinatore esplose i primi due colpi a distanza ravvicinata quando vide il ragazzo che gli puntava l'arma. Ferito a una spalla, Ugo provò a fuggire verso il motorino guidato dal complice, ma il militare fece fuoco altre due volte colpendolo sotto lo sterno e alla testa e uccidendolo. Sin dal primo momento la famiglia contesta le prime ricostruzioni affermando che il 15enne era stato colpito alla testa mentre era già voltato di spalle. Viene costituito un comitato verità e giustizia per Ugo Russo. Si confrontano intellettuali, scrittori, opinionisti e fa discutere la realizzazione ai quartieri spagnoli. In piazzetta, parrocchiella, Santa Maria, ogni bene, di un murale dedicato al ragazzino. Le indagini vanno avanti e si rivelano lunghe e complesse. I magistrati incrociano i dati dell'autopsia e delle perizie balistiche con i filmati di videosorveglianza e testimonianze. Le conclusioni della procura dividono ora la reazione del carabiniero in due fasi. Il militare spara i primi due colpi da distanza ravvicinata, uno ferisce Ugo alla spalla, l'altro va vuoto, ma a ciò che accade subito dopo ad aggravare la posizione dell'indagato, Russo è già in fuga, sta provando a raggiungere il complice che si trova alla guida dello scooter. Ciò nonostante, il sotto ufficiale spara altre due volte, mettendosi quasi perpendicolarmente alla posizione precedente e colpisce Ugo anche alla testa. Il ragazzo muore sul colpo. Ponte da record a Napoli, Carla della Corte ad 8 Channel spiega incassi meglio del pre-Covid, più 25% in ogni settore, ma resta il dramma traffico. Sentiamo. Ponte di ogni istante da record a Napoli, oltre 26 milioni di incassi per la città di Partenope, di cui 13 milioni per le attività ricettive, 11 milioni e 200 per i ristoranti e bar e 2 per il commercio. Ecco i numeri della ripresa in questo lungo weekend di shopping, spese, divertimento e cultura. Finalmente si può parlare di una grande ripresa del turismo, addirittura i dati sono migliori del 2019. Dal 20 al 30%, dati veramente incoraggianti, anche il commercio ha beneficiato di questa grande affluenza turistica. Moltissimi negozi aperti, siamo riusciti ad ottenere l'apertura quasi dell'80% in città nel giorno di festività del martedì di tutti i santi. La città è stata letteralmente invasa da turisti e visitatori, ma resta il problema del traffico. In una città paralizzata, ieri disagi e proteste per i maxi ingorghi in più punti del capoluogo. Noi il 10 novembre abbiamo un appuntamento con il sindaco proprio per esporre queste criticità in previsione delle festività natalizie e anche della vita quotidiana di questa città. Bisogna assolutamente intervenire, infatti abbiamo lanciato a tutti i nostri associati un questionario sulla mobilità per quanto riguarda la chiusura del lungomare, essendo una delle tre arterie principali della nostra città. Tra i vicoli dei quartieri spagnoli di Napoli, un tiktoker ha esploso una serie interminabile di fuochi per il raggiungimento dei 100.000 followers sulla piattaforma cinese. A renderelo noto, l'accaduto è il consigliere regionale della campagna Francesco Emilio Borrelli. Lo spettacolo pirotecnico è stato ripreso e postato su TikTok in un video che diversi utenti hanno segnalato al consigliere. Salve, mi sono imbattuto su questo video, le sembra normale, si legge, festeggiare 100.000 seguaci in questa maniera con una batteria pirotecnica al centro del vicolo mentre la gente passeggia. Inoltre i fuochi lambiscono palazzi e balconi, scrive proprio un utente al consigliere Borrelli. L'ho lanciata dalla finestra perché me l'ha ordinato Dio. Questa la confessione che Giuseppe Dauria, il quarantenne di Fisciano, accusato del tentato omicidio della figlia piccola, ha reso al GIP del Tribunale di Nocera. Sentiamo. È stata la voce di Dio a dirmi di lanciare la bambina dalla finestra. Questa la versione che Giuseppe Dauria, il quarantenne di Fisciano, accusato del tentato omicidio della figlia di appena due anni, ha consegnato nell'interrogatorio di garanzia. Nell'aula bunker del Tribunale di Nocera Inferiore, assistito dagli avvocati Silverio Sica e Tommaso Amabile, l'uomo ha confessato. È stato lui ad aver lanciato la piccola dal terzo piano dell'abitazione di Fisciano, come spiega uno dei suoi legali. Come un fiume ha avuto la necessità di dire che egli l'aveva lanciata, che era stato lui obbedendo a delle voci che nella sua testa gli dicevano di compiere questo gesto per salvare il mondo. Gli avvocati hanno presentato istanza al giudice di trasferire Giuseppe Dauria dal carcere di Bellizirpino, dove è attualmente detenuto in una struttura psichiatrica. Noi abbiamo chiesto che venisse ricoverato in una struttura psichiatrica, una casa di cura psichiatrica. Al vaglio della procura di Nocera Inferiore, anche la posizione della madre della bambina, che agli investigatori aveva raccontato una versione diversa. La signora non ha alcuna responsabilità nella vicenda. La signora ha semplicemente obbedito, io ritengo, all'istinto di una moglie che resta incredula di fronte alla possibilità che il padre della bambina abbia buttato giù la propria figlia. È evidente che ha detto che non è possibile, è caduta. Sicuramente la sua convinzione è di assoluta buona fede rispetto a questo. Il comando provinciale di Avellino dei Carabinieri ha predisposto un piano straordinario per il controllo del territorio della Valle del Sabato, che prevede oltre ai servizi di pattuglia anche l'impiego di squadre speciali, come quelle della compagnia di intervento operativo del decimo reggimento Carabinieri Campania di Napoli. L'attività concordata dal prefetto di Avellino si propone di incrementare il livello di sicurezza dell'intera area, in particolar modo a Prato-la-Serra, per contribuire il regolare svolgimento della competizione elettorale. Le squadre della CIO sono in grado di raggiungere qualsiasi località ed essere operativi entro l'arco di 48 ore, rafforzando l'azione di controllo del territorio dei comandi stanziali presenti. Tavolini dei bar nella zona Unesco del complesso di Santa Sofia, a pochi centimetri dal campanile, fa discutere a Benevento la foto postata sui social dal Comitato Centro Storico che torna a chiedere regole chiare. Sentiamo. Un'azione gravissima per il decoro di una città e per il rispetto che si deve avere per i nostri monumenti. Da tempo ormai inascoltati chiediamo controlli stringenti e regole chiare. Il Comitato di Quartiere Centro Storico di Benevento posta sul proprio profilo social una foto che fa discutere. Tavoli di un bar posizionati a pochi passi dal campanile cittadino nella zona Unesco di Santa Sofia. E il Comitato ribadisce anche un problema di vivibilità. Il Centro Storico è in preda all'anarchia. Ciò che è grave è che non vi sia una regola. Noi non possiamo ricevere una segnalazione come quella di oggi di una foto di un tavolino proprio sotto il campanile di Piazza Santa Sofia, Piazza Matteotti perché rappresenta la prova che c'è qualcosa che non va, qualcosa che non torna nella gestione della macchina amministrativa. Non può esservi un accadimento del genere senza che nessuno si indigni. Parliamo di una città storica, parliamo di una zona correttamente ricordata, una buffer zone. Non è una contrapposizione agli esercenti, spiega ancora Marino, siamo contrari a qualunque tensione sociale ma il Comune deve necessariamente esercitare l'azione di controllo che gli appartiene e poi solleva il problema della viabilità nella zona di via annunziata. Se da una parte spuntano i tavolini, dall'altro spuntano i divieti di sosta, del tutto immotivati, se in sombra di dubbio non comunicati tanti residenti hanno trovato la multa e il segnale di divieti di sosta. Quindi non è più ammissibile. Dobbiamo cercare di far comprendere all'amministrazione, al sindaco, che un quartiere merita rispetto, coerenza e certezza delle regole. A Salerno un marocchino di 27 anni ha danneggiato 30 auto nel quartiere di Torrione. Torrione è stato bloccato e arrestato dalla polizia. Rabbia invece tra i residenti. In una sola notte ha distrutto 30 auto che erano parcheggiate in zone diverse del quartiere Torrione a Salerno. Un raid vandalico folle di cui dovrà rispondere un cittadino marocchino di 27 anni. Ritenuto responsabile di danneggiamento aggravato e furto, il giovane è stato tratto in arresto dal personale di polizia giudiziaria dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Salerno. Gli agenti lo hanno sorpreso in flagranza di reato, mentre distruggeva i finestrini delle auto, con un manganello telescopico ed un martelletto a punta. In alcuni casi l'uomo ha sportato dagli abitacoli anche oggetti di valore, come accessori per cellulari e navigatori. Rabbia nel quartiere Torrione, dove in tanti chiedono più controlli e sicurezza. È una cosa assurda che uno sotto casa sua non sta neanche tranquilli, perché sorveglianza zero. Siamo un po' abbandonati a noi stessi. Fino a ieri era sicuro qui sopra, oggi non lo so. È la prima volta che sento questa zona una cosa del genere, è abbastanza tranquillo fino adesso, poi non lo so. Ma prima c'era qualche avvicino, lo vedevo contro l'alba, ma non ci stanno a vincere più e allora ognuno fa quello che vuole. Il ride quasi sicuramente è iniziato intorno alle 3 del mattino ed ha riguardato sia le auto che erano parcheggiate tra via Cosmo Venuti e nell'area che si trova poco distante, che quelle che erano in sosta nei pressi di Forte La Carnale. Un risveglio amarissimo per decine e decine di famiglie salernitane, incredule da dirate per quanto accaduto. Ed ora parliamo della metro leggera di Avellino. La svolta è vicina. Il sindaco Festa dice a novembre partiamo con il preesercizio. L'obiettivo è tenere le corse extraurbane al di fuori della città. Metro leggera ad Avellino. Il sindaco Festa annuncia la svolta. Ormai ci siamo. È tutto pronto. Stiamo definendo solo il piano corse con l'AER, ma entro novembre si parte con il preesercizio. Stiamo effettuando con l'AER questo passaggio di consegni, il preesercizio su tutte. Mi pare che per ora tutto sia andando per il verso giusto. Io ho chiesto che entro il prossimo anno, entro la prossima stagione scolastica, tutto l'extraurbano debba fermarsi fuori dall'area urbana. D'altronde lo stesso termine per definizione lo sancisce e che ci siano metro leggera e autobus che poi facciano circolare all'interno invece della città studenti, lavoratori, cittadini comuni. Ma l'associazione insieme per Avellino e l'Irpinia mette a conoscenza dei continui disservizi. Non è la prima volta che molti utenti, in particolare per la tratta Napoli-Avellino, restano a piedi poiché i pullman raggiungono il massimo della capienza possibile. La richiesta è di rivedere gli orari delle corse nei giorni festivi, limitando difficoltà negli spostamenti per studenti, lavoratori e pendolari. Festa a margine della commemorazione del 2 novembre torna anche sulle dichiarazioni del consigliere di opposizione Amalio Santoro, che aveva parlato apertamente di un sindaco ormai di centrodestra. Non so se abbiamo consiglieri iscritti, credo di no, a partire di centrodestra. L'unica cosa che posso dire è che abbiamo consiglieri iscritti con la comunità di Avellino, che tra l'altro sarà anche lo schema che seguiremo da qui a un anno e mezzo. Io mi ripresenterò con liste civiche, La città sta crescendo, come dimostrano i buoni risultati ottenuti anche sotto il profilo turistico. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, commenta il risultato degli ultimi giorni, ma avverte che guerra e crisi ci impongono attenzione. Sentiamo il servizio. Negra il risultato solo chi è serialmente in contrasto con me. Clemente Mastella rivendica quanto messo in campo. Il sindaco di Benevento, a margine della commemorazione dei defunti, ha parlato del buon risultato incassato dalla città sul fronte turistico negli ultimi giorni. La scelta è cresciuta, quando sono arrivato io è cresciuta notevolmente, ha avuto una considerazione maggiore per il dato mediatico che mi attraversa, per il Benevento in Serie A, insomma tante cose per alcuni protagonisti nel mondo dell'impedoria, penso alla pasta rummo che si è affermata, insomma sono tante cose che sviluppano attenzione sulla città di Benevento, che era una città poco conosciuta. Primi passi certo ma essenziali e incoraggianti, soprattutto in un periodo in cui i commercianti soffrono un momento di profonda crisi. Su questa il sindaco si concentra, invocando comportamenti improntati all'austerity ed una più decisa solidarietà sociale. Oggi sono contento di questo, certo, questo significa che si smorza questo afflato drammatico dalla circostanza alla guerra che crea una sorta di piccolo apocalisse, perché la mancanza del grano porta a restrizioni i panettieri, a quelli che fanno i dolci, insomma un po' all'economia del vicolo, che è quella che è più attrattiva per quanto riguarda la città di Benevento, ne soffre l'agricoltura, ne soffre un po' tutti. Speriamo, speriamo che ci sia un innalzamento dei valori e della solidarietà che oggi manca a livello internazionale. È tutto con il nostro Tg, grazie di averci seguito, vi auguro una buona serata. Speriamo, speriamo che ci sia un innalzamento dei valori e del nostro Tg, grazie di averci seguito, Speriamo, speriamo che ci sia un innalzamento dei valori e del nostro Tg.